Ia donna Haba, o signorito Haba, è la tà, chi tà, chi tà non si impara, è la tà, chi tà, chi tà non si impara, è la tà, chi tà, chi tà non si impara Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Allora è un po' di tempo che non pubblico video perché non ho tempo ragazzi mi dispiace tantissimo ma non ho tempo e quindi preferisco a volte fare le live l'altra sera ho fatto una live per l'invisibilità solo che è un glitch diciamo in fase di elaborazione ragazzi e non sono sicuro di quello che è e quindi non lo posso postare comunque ragazzi questo video lo faccio per l'after patch per mettere la BMX all'interno della base operativa quindi per fare questo glitch penso che già lo sapete cosa serve in pratica serve la base operativa serve l'Avenger all'interno della base operativa serve un oppressor all'interno della base operativa una BMX dentro un garage qualsiasi e per fare più veloce vi servirà un vi servirà scusate il colpo di Lester per farlo più in fretta e all'interno della base operativa mi raccomando lasciate un posto libero quindi che dovete fare dovete salire sulla moto entrare all'interno dell'Avenger andare sul menu della play andare a cercare un'attività dove c'è scritto avvia gta online una volta trovata due volte ps e ritornate nel gioco bene ragazzi una volta tornati nel gioco dobbiamo andare e posizionarci su esci dall'Avenger premiamo x per uscire dall'Avenger ragazzi appena lo schermo ci diventerà un po' nero doppio tasto ps x su avvia gta online cerchio se ci fa vedere da dietro facciamo di nuovo doppio tasto ps sul schermo nero avvia gta online cerchio e triangolo qui ragazzi per scendere dalla moto e restiamo immobili e ci farà cadere vicino al Montecilia una volta vicino al Montecilia ragazzi dovete essere sempre veloci e dovete premere R1 per le armi e farvi esplodere con una bomba o una mina quello che vi pare vi dovete uccidere così perché con il menu interazione non funziona ragazzi e a questo punto il difficile del glitch ragazzi è stato quindi fatto praticamente voi adesso siete bugati adesso questo glitch qui si potrebbe utilizzare per fare le auto in GAD mode si potrebbe utilizzare per diventare invisibili si potrebbe utilizzare per tante altre cose ragazzi io vi faccio vedere solamente come mettere la BMX dentro la base operativa cioè vi faccio vedere ormai ve l'ho fatto vedere da adesso in voi penso che già lo sapete come inserire la BMX all'interno della base operativa comunque come vi ho detto questo si può utilizzare anche per l'invisibilità si può utilizzare per il GAD mode si può utilizzare per un sacco di cose il GAD mode se volete potete andare indietro nei miei video e cercare un video perché ci sta già l'avevo fatto in passato sempre da me è stato trovato quindi se volete andare andate e cercatelo comunque ragazzi io in pratica sto su un gruppo telegram è il gruppo di Maxi Milk quindi se volete iscrivervi al suo canale ci sarò io ci sarà Maxi Milk ci saranno tanti altri youtuber italiani che se vi servirà una mano ragazzi noi ve la daremo volentieri un consiglio più che altro perché una mano è molto difficile sto periodo come ho detto io sto lavorando tanto e ho poco tempo per giocare alla Play poi che altro vi volevo dire vi volevo dire inoltre ragazzi a breve farò un contest come ho detto nella live dove regalerò una Playstation 3 modificata è un account da 300 milioni ragazzi quindi Playstation 3 è account da 300 milioni eccovi qui anche l'ora quando ho fatto il glitch ragazzi perché così almeno vi rendete conto che non è un vecchio video o cose del genere questo è un after patch che non lo so se l'ha trovato qualcun altro io l'ho trovato e l'ho postato cioè ho fatto l'altra sera la live però ho fatto la live così giusto per prendere in giro un po' di gente montata diciamo perché tutti sono glitcher tutti sono youtuber tutti sono non so come dire però una cosa è stare 10 ore davanti alla Playstation e vi garantisco che si trovano i bug e i glitch se ci passi 10 ore davanti alla Playstation e una cosa è fare 2 ore stasera 2 ore domani 2 ore dopo domani perché facendo 2 2 2 alla fine se stasera te scappa qualcosa domani te le sei già scordate perché è talmente tanti passaggi che te li scordi allora ragazzi in pratica avete visto ho preso la bicicletta e sono uscito fuori se anche a voi vi fa il caricamento lungo che non si finisce mai cercate sempre un'attività e fate a via gta online se vedete la bicicletta cioè non la vedete scusate è invisibile rimanete lì sopra fermi finché compare perché se scendete giù quando è invisibile la bicicletta non ci sarà quindi una volta che siete usciti con la bicicletta rientrate dentro garage ragazzi entrate dentro un'auto un'auto qualsiasi non la perderete raga e vi porterà direttamente nella base operativa semplicissimo l'unico passaggio più difficile è quello dell'avenger che è diciamo abbastanza non molto dovete essere molto veloci e seguire i passaggi seguite il video ragazzi non quello che dico io voi seguite il video l'ho rallentato e voi seguite il video e come fa il video così fate pure voi non seguite quello che dico io comunque vi stavo dicendo contest a breve ci sarà un contest dove regalerò playstation 3 modificata con 4 o 5 giochi non mi ricordo e un account da 300 milioni primo e secondo posto raga e forse farò anche il terzo posto comunque chi vincerà per primo il contest avrà diritto di scegliere tra i tre premi quindi ragazzi iscrivetevi al canale di telegram di maxi mil perché ci sono io e tanti altri youtuber che vi potranno dare un consiglio o una mano e cose del genere e per questo video è tutto ragazzi io spero che continuate a seguirmi e spero che lasciate anche un bel pollicione in su perché sinceramente penso di meritarlo noi ci si vede ad un prossimo video ciao